Clicca su abbonati per passare a Redoc Gold e vedere tutti i video futuri del canale in anteprima e senza pubblicità. Benvenuti ragazzi con un altro contenuto di Dragon Ball. Finalmente ci siamo, torniamo con le top e la top di oggi è un po' particolare. È simile alla top combattimenti, solo che oggi invece voglio parlare di iconicità. Parliamo dei top 10 momenti più iconici della storia di Dragon Ball. Ho voluto inserire tutti i momenti della iconicità di Dragon Ball, quindi dal Dragon Ball originale fino a Dragon Ball Super. Anche se come potete immaginare, visto che parliamo di iconicità, sicuramente Dragon Ball Z è molto più presente in questa lista. Vabbè, come potete immaginare. Prima di cominciare voglio fare un giochino con voi. Poi con Redoc Gold in generale supportate questo progetto, quindi io ve ne sarei immensamente grato. Ma io direi di partire con la decima posizione. In decima posizione iniziamo già con qualcosa di non molto ortodosso. Ecco, mettiamola così. Ho già voluto inserire qualcosa di Dragon Ball Super e una cosa super recente. Ovvero Gohan Beast. Ora, già da questa decima posizione probabilmente molti di voi saranno arrabbiati. Vi dico la verità. Perché ho voluto inserire questa trasformazione qui? Per una serie di motivi. Intanto volevo dare un pochettino di spazio a Dragon Ball Super, che comunque un po' di emozioni ce le regala. E in più, secondo me, questa scena è incredibilmente sottovalutata, proprio perché è uscita da veramente poco. In futuro se ne parlerà un pochettino di più. Io amo quando ci sono i parallelismi all'interno della stessa opera e questa trasformazione qui è tutta un parallelismo. Quindi ho voluto mettere una scena di uno dei film di Dragon Ball Super proprio ad onore, no? E l'ho voluta inserire almeno in decima posizione. Comunque in generale questa scena è veramente, veramente molto, molto epica. La scena riprende paro paro quella che abbiamo visto in Dragon Ball Z quando Gohan si trasforma per la prima volta nel Super Saiyan di secondo livello. Quindi in poche parole, al posto di C16 abbiamo piccolo e al posto del Super Saiyan di secondo livello abbiamo questa forma Gohan Beast. Forma che deve essere chiarita, secondo me, anche all'interno del manga. Per chi non lo sapesse, in questo momento nel manga si sta rivivendo praticamente il film di Dragon Ball Super, quindi magari avremo qualche informazione in più. È una cosa che a volte succede in Dragon Ball Super quando magari si vedono le cose prima nei film o prima nell'anime e poi vengono ripercorse nel manga. È una forma figa, poi in generale anche il fatto di utilizzare la stessa mossa di piccolo per sconfiggere Cell Max. Il fatto in generale è che l'avversario contro cui Gohan si va a scontrare sia proprio questa evoluzione finale di Cell, che è l'iconico villain proprio di Gohan. Per me è una scena che merita, una delle scene che merita di più in assoluto in Dragon Ball Super. E in nonna posizione, la famosissima scena It's Over 9000. Mamma mia ragazzi, questa scena qui è iconica, è perché lo è. Intanto parliamo proprio dell'inizio di Dragon Ball Z, parliamo proprio dell'arrivo dei Saiyan e Vegeta reagisce così quando vede il livello di potenza di Goku, che a quanto pare è enorme, molto più grande di quello che si aspettava appunto Vegeta, distruggendo ovviamente il suo scouter. Vabbè, questa scena è iconica non tanto per quello che succede, perché alla fine è molto banale, semplicemente Vegeta vede che il livello di potenza è altissimo, ma iconica perché a un certo punto della storia di internet diventa un meme incredibile. Meme che non è che è durato un pochettino, dura ancora oggi, quindi io oserei dire quasi immortale. Tra l'altro è una delle nostre emoji over 9000, quindi io non potevo non metterla. L'ho inserita così in fondo proprio perché è famosa per essere un meme, quindi certo ci sono momenti molto più epici in Dragon Ball, sicuramente. Però in tutta la posizione ho voluto comunque inserire una scena derivante sempre dalla stessa saga, che sarebbe il sacrificio di Piccolo. Perché ho voluto inserire questa scena? Allora ragazzi, il motivo principale, io sono molto affezionato a Piccolo, ma comunque questa scena qui secondo me fa un effetto diverso a seconda di quanto seguite Dragon Ball. Perché se voi avete seguito anche il Dragon Ball originale in cui Piccolo di fatto inizia la sua avventura come un vero e proprio villain, e anzi forse il più temibile che c'è stato fino a quel momento lì, allora questa scena fa un altro effetto. Vedere un personaggio del genere che fino a poco tempo prima era praticamente la personificazione del male, sacrificarsi per il figlio di un suo nemico, anzi del suo acerrimo nemico, è una scena veramente fantastica. In più, io sono veramente un fan del rapporto padre-figlio che c'è praticamente tra Piccolo e Gohan, molto di più di quello che c'è tra Gohan e Goku, diciamocelo chiaramente, e questa scena è praticamente l'apoteosi, ok? Ovviamente il MVP di questa scena qui è Piccolo e non Gohan, però rimane il fatto che è una scena molto molto bella, e appunto per riprendere il termine che stiamo utilizzando in questa classifica è anche molto iconica. In settima posizione, un'altra scena derivante dalla saga dei Saiyan, ragazzi, poi giuro che non ce ne sono più, ma ho voluto inserire lo scontro tra Goku e Vegeta. Vabbè, questo è uno scontro, raga, cioè, proprio iconico, proprio in assoluto, ma non di Dragon, proprio nella storia dei manga, la prima volta che i due si scontrano. Diciamo che anche proprio la posa che fanno i due, quando si trovano l'uno davanti all'altro in questo deserto, con queste montagne intorno, cioè, è veramente qualcosa di impresso in tutti i cervelli di chi ha visto Dragon Ball e di chi è cresciuto con Dragon Ball. Allora, il combattimento in sé per sé non è tra i migliori in assoluto, cioè c'è di meglio, secondo me, in Dragon Ball, però per la prima volta vediamo un Saiyan fortissimo contro un altro Saiyan fortissimo. Viene utilizzato il Kaioken, che poi, diciamo, cioè il Kaioken è come se fosse un pochettino un preludio di tutto quello che diventa Dragon Ball nelle saghe successive, quindi con tutte queste trasformazioni, no, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo Vegeta trasformarsi in Osaru, vediamo tutte queste cose qui. Diciamo che si trova solo in settima posizione, solo perché molta gente se la dimentica, proprio perché molta gente tende a ricordarsi Vegeta più come un anti-eroe, come un villain all'inizio, cioè non aveva niente di eroico, proprio solo villain e anzi uno dei più feroci in assoluto mai visti nella storia di Dragon Ball. Però, quando parliamo di iconicità, non possiamo non inserire questa scena. In sesta posizione, invece, ragazzi, ho voluto onorare il Dragon Ball originale con la scena in cui Goku sconfigge definitivamente il grande mago piccolo. Allora, diciamoci la verità. Dragon Ball inizialmente era una storia anche abbastanza allegra, anche abbastanza easy. Forse i primi veri villain sono l'armata del fiocco rosso, ma non è che vengono presi così tanto seriamente. Il Dragon Ball originale, a mio parere, è molto più simpatico di Zeta, di Super e di GT. Però l'introduzione del grande mago piccolo, diciamo che cambia un pochettino il tono di tutto questo. Difatti, il suo arrivo cambia proprio Goku in generale, perché nel momento in cui il grande mago piccolo fa la sua prima apparizione, uccide Krillin e non solo lui, ma anche altri personaggi secondari, rendendo quest'arco narrativo il più importante in assoluto, a mio parere, del Dragon Ball originale. Lo stesso villain sembrava veramente infermabile, ma abbiamo questa scena veramente epica, iconica, che tutti i fan di Dragon Ball si devono ricordare, ovvero di Goku che trapassa il torace di questo demone fortissimo. Veramente una scena incredibile, forse la più importante del vecchio Dragon Ball, davvero. Io l'adoro, in realtà io adoro quella saga lì, e quindi dovevo per forza inserire questa scena qui, anche se solo in sesta posizione, proprio perché alla fine Dragon Ball, diciamocelo, tende sempre a essere un pochettino più epico mano a mano che andiamo avanti. In quinta posizione invece torniamo a Dragon Ball Z e parliamo di un sacrificio. Da qui in poi ce ne saranno un bel po' di sacrifici, anche se ne abbiamo già visto uno, ma oggi parliamo del sacrificio di Goku in particolare. Quello lì, vabbè, per me è una scena veramente fighissima, anche se viene un po' dimenticata, perché alla fine è un po' inutile. Io sto parlando della scena riguardante Goku e Cell in particolare. Quando Goku si rende conto, si rende conto di aver fatto un casino, e si rende conto di aver messo in pericolo la vita di tutti, sia il suo figlio che tutta l'umanità, decide di sacrificarsi. Difatti Cell sta per farsi esplodere, sta per farsi saper autodistruggersi, letteralmente. Goku arriva, lo ferma e decide di teletrasportarsi insieme a lui per riuscire a salvare tutti quanti. Dove porta Cell? Lo porta sul pianeta di Re Kaio, uccidendo sia la divinità che Goku stesso. Perché questo sacrificio è un pochettino inutile? Perché, diciamoci, alla fine Cell riesce a sopravvivere, o meglio, una piccolissima parte del suo corpo sopravvive. Come sapete, lui ha una rigenerazione estremamente forte, un po' come quella dei Namecciani, anzi forse potenziata, e non solo rinasce, ma diventa ancora più forte di quando era perfetto. Cioè, Cell perfettissimo, come dicono in Dragon Ball abridged. Comunque, cosa c'era comunque molto figa? Cioè, Goku che guardia dietro di sé e guarda suo figlio, ragazzi, tutti ce la ricordiamo, no? Questa scena qui. Poi, i sacrifici in Dragon Ball sono sempre molto molto emozionanti. E difatti, in quarta posizione, ce n'è un altro. Ed è in particolare il sacrificio di Vegeta. A un certo punto della storia, Vegeta entra in contatto con la sua parte cattiva. Diventa Majin Vegeta. A parte gli scontri che vediamo in questa micro-saga, che poi in realtà fa parte della grandissima saga di Majin Buu, quindi in particolare lo scontro tra Goku e Vegeta, c'è una scena che riguarda Majin Vegeta che per me lo rende veramente, veramente incredibile. Cioè, una scena pazzesca per me. Che è la scena in cui decide di sacrificare se stesso per provare a uccidere Majin Buu. La scena in realtà è molto più figa di come ve l'ho raccaduta io, perché sul posto arrivano prima Trunks e poi Goten. Vegeta, per la prima volta in quel momento lì, mette KO sia uno che l'altro e affida i due ragazzini a Piccolo che stava passando lì per caso. Tra l'altro, nella canonicità, come molti di voi tendono a ricordarmi sotto nei commenti, non esiste l'inferno, quindi Piccolo dice che la sua anima verrà distrutta dato quello che ha fatto. Ma Vegeta decide di mettere da parte il suo orgoglio per la prima volta in assoluto per cercare di battere un male superiore che sarebbe appunto questo demone rosa che si sta dirigendo verso di lui. È una scena veramente incredibile. Vabbè, il design di Majin Vegeta è qualcosa di improponibile, è troppo bello secondo me. Questa scena è fighissima, dovevo metterla in alto. Secondo me, forse, guarda, ripensandoci la quarta posizione è pure una scelta troppo azzardata, diciamo. Forse sarebbe stato meglio metterla più in alto, ma effettivamente ci sono momenti più epici di questo. Cioè, c'è da dire anche questo. Infatti, in terza posizione, uno dei miei momenti personalmente preferiti in assoluto di Dragon Ball che è la Kamehameha padre e figlio. Come viene detto all'estero, Father Son. Quindi, in poche parole, stiamo parlando dello scontro finale tra Gohan e Cell. Goku, come abbiamo detto prima, è morto. Si è sacrificato per provare a eliminare Cell. Però si rende conto di tutti i suoi errori e cerca di aiutare, tra molte virgolette, suo figlio. Diciamo che in realtà sta comunicando col figlio attraverso Recaio. Ma questa comunicazione dà la forza a Gohan per riuscire a battere Cell. È una scena veramente, veramente da brividi. Anche perché io, dentro questo momento qua, voglio mettere, ovviamente, anche l'intervento di Vegeta. Perché Gohan, con un solo braccio, non può letteralmente far nulla contro un Cell super-iper-mega perfetto che ha due braccia, che sta bene, che ha solo voglia di uccidere tutti. Però arriva Vegeta dall'alto, che era poco prima stato salvato dallo stesso Gohan, che appunto sacrifica il suo braccio per salvare quello che fino a quel momento lì era praticamente una specie di villain, ed ha un colpo a Cell per destabilizzarlo, per fargli perdere la concentrazione, per permettere a Gohan di creare uno dei momenti più epici nella storia degli anime del mondo. Quindi, in poche parole, la distruzione completa di Cell. Una scena veramente, veramente, molto, molto figa. Tra l'altro, per chi ha visto il video dei top 10 combattimenti in Dragon Ball, io questa scena qui l'ho messa in una posizione molto, molto alta. Ora, non voglio dirvela, perché poi vi spoilerò il video e non l'andate a vedere, io vi consiglio di andarvelo a recuperare. Mentre in seconda posizione ho voluto inserire una scena lì della Dragon Ball Super. Non mi vinciate nei commenti, ma l'ho voluto fare, perché comunque una scena, che vuoi o non vuoi, ha spaccato il web, che è la prima volta che Goku sblocca l'ultraistinto. In particolare, proprio stiamo parlando, non dell'ultraistinto completo, ma letteralmente della primissima volta, uno scontro tra Jiren e Goku. Quando parliamo di iconicità, io non posso non tenere presente l'impatto mediatico che ha avuto una scena. E quella scena lì, regà, cioè, ha creato meme, post, discussioni, ma ancora oggi? Ancora oggi, ragazzi, quindi, è una scena iconica, con la I maiuscola, la più iconica in assoluto di Dragon Ball Super. È una delle più iconiche del franchise di Dragon Ball, veramente, è una scena da brividi. L'anime, tra l'altro, la propone veramente molto bene, tutti se la ricordano, anche per la soundtrack. Ovviamente, alcuni di voi stanno pensando, cavolo, Marra, secondo me è un po' più epico quando sblocca l'ultraistinto completo. Però, c'è da ricordare, comunque, quando Goku sblocca l'ultraistinto completo, dà tanto filo da storcere a Jiren, mentre lì, invece, lo scontro sembra essere quasi alla pari. In più, in quel momento lì, tu non sai cosa sta succedendo, quindi è ancora più bello, no? C'è questo mistero, questa forma strana, che cacchio sta succedendo, per me è fighissimo, veramente, veramente, fighissimo. E in prima posizione, io, ragazzi, come potete immaginare, non potevo non inserire la prima volta che Goku si trasforma in Super Saiyan. Questa scena qui è ricordata ovunque, da qualsiasi persona abbia visto Dragon Ball. Moltissimi si ricordano ancora a memoria il doppiaggio in italiano, e questa cosa vale anche per gli altri paesi, perché è veramente una scena che tutti si ricordano. questa scena qui è Dragon Ball, cioè questa scena è il perno di tutta quest'opera immensa. La morte di Krillin provoca tantissima rabbia da Goku, che raggiunge questa forma di cui già se ne era parlato tantissimo nella stessa saga di Namek. È la prima volta in Dragon Ball in cui vediamo effettivamente una trasformazione del genere, quindi, cioè, immaginate vedere questa scena per la prima volta senza sapere nulla, cioè, shock totale. E poi, immaginate di vedere per la prima volta Freezer nella sua forma completa che combatte a fatica, perché Goku, in quella forma lì, disintegra letteralmente Freezer. Ma, vabbè, comunque, io parlo della trasformazione e non tanto del combattimento. La trasformazione, ragazzi, ha cambiato la storia dei manga. Possiamo dirlo tutti con tranquillità, perché è così. Vuoi o non vuoi? È questo che è successo, ragazzi. Se il franchise di Dragon Ball continua a vendere ancora oggi, nel 2023, è anche grazie a questa scena qui, che è ricordata in tutto, tutto il mondo. Quindi, ragazzi, io direi di concludere questo video e voglio ricordarvi, tra l'altro, che questo canale è davanti anche grazie al nostro store. Tra l'altro, è uscita anche questo bundle che riguarda Majin Vegeta con il suo poster annesso. È un bundle, quindi trovate questi due prodotti insieme a un prezzo bello ridotto. Trovate il link in descrizione e nel primo commento, mi raccomando, visitate il nostro sito, perché questo è un bundle unico e non so quanti pezzi saranno rimasti ora che sto registrando questo video. Quindi andate a vedere, mi raccomando, e correte, correte, correte a comprarlo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Io sono Marra e questo è RedDoc. Mi raccomando, ragazzi, fate bravi e noi ci vediamo con altri contenuti a tema Dragon Ball almeno una volta a settimana. Ciao a tutti.